Avvocato Coletti, Managing Partner in Italia di Leitam & Watkins. Leitam & Watkins compie 10 anni di attività italiana. Dove è lo studio? Dove sta andando? Siamo molto felici di questo anniversario. Credo che in questi 10 anni abbiamo raggiunto il posizionamento e i risultati che ci attendevamo. Sicuramente negli ultimi 4-5 anni per qualità e quantità delle operazioni che abbiamo svolto ritengo che lo studio abbia raggiunto una posizione primaria nel mercato italiano in tutte le aree che sono di nostro interesse e competenza. Quindi il corporate finance in generale ed in particolare il private equity M&A, il banking and finance e il capital market. Quindi grande soddisfazione grazie al contributo di tutti i soci e anche di tutti i professionisti che nel corso di questi 10 anni hanno lavorato con noi. Cosa ci aspettiamo adesso? Ancora tanto investimento sulla crescita interna? Ancora tanto investimento sulle operazioni diciamo complesse? Sicuramente credo che sulla crescita interna abbiamo dimostrato negli ultimi 3 anni quanto lo studio abbia investito sui professionisti più giovani. sono stati fatti una serie di soci nei diversi settori quindi questi giovani soci sicuramente contribuiranno alla crescita dello studio e certamente sulle, diciamo così, le ali dei risultati raggiunti in questi ultimi anni continueremo a lavorare con i nostri principali clienti ad espandere la nostra activity A. Avvocato Novarese, nel banking and finance, Letterman Watkins ha costruito uno, se vogliamo, dei suoi aspetti di maggiore radicamento italiano è un mercato che è cambiato molto nel corso di questi 10 anni quali sono secondo lei i prossimi passi e soprattutto le frontiere verso le quali vi state muovendo? Devo dire una cavalcata di successo negli ultimi 10 anni che forse paradossalmente è stata aiutata dalla difficoltà del contesto macroeconomico e finanziario nel senso che si è sviluppata una fortissima sensibilità sulle competenze finanziarie anche a livello aziendale e quindi la domanda di servizi legali di qualità particolarmente versati nella capacità di dare delle soluzioni e non soltanto una consulenza di natura tecnico-legale quindi da questo punto di vista credo che lo studio si sia distinto in maniera particolare rispetto alla concorrenza, se così vogliamo chiamarla, degli altri players di mercato ma soprattutto ha saputo costruire una relazione molto forte sia con gli operatori finanziari che con le grandi società che in questo paese costituiscono la spina dorsale dell'economia. Avvocato Sciolla, a lei, al suo dipartimento, se possiamo usare questa espressione è toccato mettere la fantomatica ciliegina sulla torta di questi 10 anni lavorando a questo importante deal di acquisizione di Italo NTV in Italia ecco, il private equity lo avete seguito tantissimo in questi anni continuate a farlo, è un mercato che sta dando grandissime possibilità di crescita a uno studio come il vostro Sì, siamo molto contenti di aver assistito GIP nell'acquisizione di NTV Italo è stato un deal molto rilevante e molto grande è stata, qualcuno l'ha definita, la ciliegina sulla torta perché in questi anni abbiamo assistito tanti e numerosi player nel settore tanti sponsor, tanti fondi che hanno fatto tantissime operazioni in Italia abbiamo cominciato nel 2011 a fare il primo LBO dopo l'apertura dello studio nel 2008 perché come ricordiamo dal 2008 in avanti, dopo la crisi, il settore aveva sofferto moltissimo nel 2011 abbiamo fatto il primo e unico LBO in Italia la vendita per Pipe Partners di Gruppo Coin è stato un deal del valore di oltre un miliardo e da lì abbiamo cominciato a seguire una serie di clienti e di sponsor in tantissime operazioni dal 2011 fino al 2018 l'ultima delle quali è stata all'inizio del 2018 l'operazione di NTV che ci fa molto contenti e rappresenta un ottimo inizio per il 2018 abbiamo anche fatto per conto di BC Partners la vendita di Gruppo Coin dopo lo spin-off da OVS su cui avevamo anche assistito OVS nella quotazione e vediamo che ci sono tutta una serie di nuove operazioni nel corso del 2018 aste e non aste in cui speriamo di poter essere coinvolti e siamo abbastanza sicuri che anche il 2018 andrà bene come gli anni precedenti La sensazione è che in Lettenham & Watkins voi soci siate soci assolutamente lavoratori come si dice è una sensazione corretta? Sì, è molto molto giusto non solo siamo pronti a generare il deal in Italia e con il nostro radicamento nel territorio ma poi dobbiamo anche fare l'operazione e questo è sicuramente un qualcosa che ci fa molto piacere perché non assistiamo il cliente solo nella parte di generazione nella parte di PR ma poi li seguiamo dall'inizio della generazione del deal fino sperabilmente alla chiusura con successo del deal per loro